La Nisse incappa nella seconda sconfitta di file in campionato e si trova ancora a quota zero nella classifica del girone A di eccellenza. Un'altra domenica amara per la compagine allenata da Alessandro Settineri dopo il pesante 3-0 subito a Casteldaccia. Stavolta è l'Acragas a brindare al successo, il terzo consecutivo grazie a un gol di Alfonso Cipolla al 39esimo del secondo tempo. Per gli Acragantini una vittoria che vale il primato in condominio con lo Sciacca pure a punteggio pieno vittorioso in trasferta. I biancoscudati sono attualmente ultimi in compagnia di altre tre squadre ma devono ancora recuperare l'incontro casalingo con l'oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo in programma mercoledì prossimo. I commenti a fine gara del presidente della Nisse Sergio Iacona e dell'ex biancoscudato Desiderio Garufo sulla pagina Facebook dell'Acragas. Il risultato ci lascia l'amaro in bocca però devo dire che sapevamo di giocare contro una squadra sicuramente al di sopra della Nisse, una squadra molto attrezzata anche per la vittoria finale che ha giustamente fatto investimenti per programmare un futuro roseo come io auguro all'Acragas. Per me è stata una grande emozione tornare qua dopo più di 30 anni perché da ragazzo ho vissuto tanti invocati derby tra la Nisse e l'Acragas e quindi per il resto ho assistito comunque a una bella partita combattuta dove sono soddisfatto del fatto che la Nisse ha tenuto e oserei dire che ha perso comunque per un episodio anche se abbiamo ben coscienza di quelli che erano i valori in campo. Poco prima di prendere il gol sia pure in contropiede abbiamo avuto un'ottima occasione direi sprecata così come nel primo tempo c'è stato un colpo di testa pericolosissimo ma era il nostro convito questo quello di aspettare l'Acragas e di stare un po' coperti perché eravamo ripeto consapevoli della superiorità tecnica dell'Acragas quindi la differenza è anche un pizzico di fortuna però ci sta nel calcio assolutamente quindi tanti auguri all'Acragas. Sì è una vittoria voluta una vittoria voluta perché queste partite poi riesci a sbloccarle nel primo tempo dove abbiamo fatto una grande mole di gioco e non abbiamo mai concesso niente all'avversario sia nel primo e nel secondo tempo a volte rischi anche di perderle magari in contropiede una palla inattiva. Siamo stati bravi a non concedere niente ci confermiamo miglior difesa e quindi diamo prestigio a questa vittoria perché le partite non saranno tutte 5 a 2 4 a 0 3 a 0 sono partite che più tempo passa più l'avversario ti studia e quindi sarà sempre più difficile per noi però abbiamo riconfermato la fame che ha questa squadra. io oltre alla prestazione mia che è sempre diciamo collegata a una prestazione di gruppo quindi una grande prestazione da parte di tutti da parte di chi è entrato e questo è frutto del lavoro settimanale perché ci sono ragazzi che sono andati in tribuna che durante la settimana danno sempre il 100% quindi in merito di tutti. Il quadro completo dei risultati La classifica Intanto la Lega Sicula ha ufficializzato gli incontri del secondo turno di Coppa Italia. Nissa e Acragas torneranno a incontrarsi presto mercoledì 28 e il 12 ottobre gara di ritorno all'esseneto di Agrigento. Le altre partite in programma Resuttana Parmonval, Mazzarese Sciacca, vincente tra Enna e Leonfortese, Don Carlo Misilmeri, Comiso, vincente tra Modica e Santa Croce, Taormina, Leonzio, Rocca, Acque Dolcese, Nuova Igea, Palazzolo, Siracusa.